Buongiorno, buonasera, buon pranzo, buona cena, in base a quando state guardando questo video qua, albiki, parlo come sempre, e siamo qua oggi con un video speciale, che tra l'altro sono molto felici di fare, oggi doveva uscire un episodio di Pokémon, ma per fortuna, dico, salta a giovedì, perché oggi sono qua per annunciarvi una collaborazione importantissima, che farà sicuramente felici molti di voi collezionisti, non solo di Pokémon, ma anche di altri TCG, e adesso vi dirò anche il perché. E il perché è presto detto, è iniziata la mia collaborazione con collezionisti anonimi, uno store fisico e anche e-commerce, lo store fisico lo trovate a Mortara, quindi se siete nei dintorni e vi va di fare un salto potete tranquillamente anche andare direttamente al negozio, oppure se preferite fare acquisti online vi lascio il link in descrizione. Oltre alla collaborazione c'è qualcosa di più, infatti c'è anche il codice sconto per ottenere il 5% su tutto il vostro carrello, infatti in fase d'acquisto vi basterà selezionare applica un codice pronozionale, scrivere alb5 e otterrete per l'appunto il 5% di sconto su tutto il carrello. Fatelo e sono sicuro che non ve ne pentierete, poi il catalogo è vastissimo e tra poco ve lo vado a spiegare tutto, partendo ovviamente dal fulcro principale che è questo canale, ovvero Pokémon, con edizioni in italiano, in inglese e in giapponese. Ci sono anche i propri booster box giapponesi, se li volete andare a prendere e spacchettare prendeteli, io ve li consiglio, ne avevo già presi anch'io in passato, però poi ho smesso un pochettino, non so perché, ho fatto un po' di cazzate a smettere di comprarli perché sono set più piccoli, quelli giapponesi, li completate prima ed è molto più divertente da spacchettare e secondo me le carte hanno proprio un'altra qualità. Ovviamente se non siete interessati a Pokémon, essendo uno store di carte collezionabili e non solo, ci sono anche altre carte che potete andare a comprare, ci sono le carte di Disney e l'Orcana con anche proprio il booster box da, non mi ricordo, una trentina di pacchi, ci sono le carte anche di One Piece e di Dragon Ball, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Poi ovviamente troviamo anche tutta la parte accessoristica legata al TGC con sleeve, top loader, bari, ci sono anche proprio i fogli a nove tasche o quelli che vi servono per le vostre carte, tra l'altro visto sul sito ci sono anche quelli per metterci direttamente la busta intera, adesso ve ne prendo una per farvi capire. Ci sono proprio praticamente i fogli dei raccoglitori dove ci entrano le bustine, quindi se come me avete iniziato una collezione di art set che possono essere Pokémon, Magic o quello che volete, ci sono proprio i fogli dove ci entrano alla perfezione le vostre buste sigillate, quindi è veramente una ciccheria. E tra l'altro ci sono anche i fogli del raccoglitore per le PSA, quindi se volete tenervi tutte le PSA dentro un raccoglitore lo potete fare. Oltre a questo abbiamo anche dei Funko Pop che come vedete dietro ne ho giusto un paio quindi mi sa che toccherà spendere anche soldi in Funko Pop e come ultima cosa ma non meno importante ci sono anche varie Mystery Box. Per la precisione ci sono tre diversi tipi di Mystery Box, in questo caso ve ne vado a spiegare due perché sono quelle di Pokémon, il terzo invece è di One Piece. Le due Mystery Box di Pokémon sono una da 25 e una da 50€, vi dico cosa c'è in quella da 25 e in quella da 50€. In quella da 25 ci sono tre pacchi di espansioni di varie lingue, possono essere italiano, inglese o giapponese e una carta RAW, quindi una carta che non è gradata e stata semplicemente presa da una busta e slivvata, per RAW si intende questo, quindi che il suo valore non è alterato da gradazione. È proprio una carta sbustata, presa, messa in sleeve, esattamente come esce quindi non ci sono gradazioni varie. Mentre in quella da 50€ c'è una carta gradata garantita e due pacchi di espansione, questo è un po' tutto quello che c'è sul sito. E come ultima cosa vi aggiungo anche che c'è il nuovo TCG Altered, che se non l'avete ancora visto fatevi qualche giro online, c'è proprio il Booster Box come se fosse quello di Pokémon con le bustine al suo interno. Per la precisione il Booster Box è da 36, esattamente come quello di Pokémon. E niente ragazzi, spero che la notizia vi abbia fatto piacere, se così fosse vi invito a lasciare un like e un commento ed iscrivervi al canale.